Deepfake a sfondo sessuale, in Inghilterra una legge adesso li vieta, li punisce penalmente. È molto, molto interessante, più di quello che si pensi, perché sui minori c'erano già leggi che proteggevano fenomeni simili, ma sul resto no, ed è qualcosa di molto importante per la vita delle persone, qualcosa che può cambiare tutto, e quindi forse bisognerebbe farlo anche in Italia? Chi lo sa, speriamo di sì.